Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Francesco Siciliani in un nuovo video targato iPhoneItalia.com Come promesso andiamo a vedere cosa c'è sulla mia Apple TV di quarta generazione. Iniziamo subito! Bene ragazzi, eccoci qui, andiamo a vedere cosa c'è sulla mia Apple TV insieme ovviamente alle applicazioni stock, quindi quelle presenti di default come ad esempio questa che è quella relativa ai film presenti su iTunes che possiamo acquistare e noleggiare sulla nostra Apple TV sceglierli in base a generi, lista di desideri, suggeriti e ricerca classica e quindi avere a disposizione sul set of box di Apple. Poi abbiamo l'applicazione di App Store, da qui potremo andare quindi a scaricare tutte le altre app che ci potranno servire sulla nostra Apple TV sceglierle tra le varie sezioni oppure scegliere tra quelle acquistate magari già su iOS o ricercarle in modo classico. Poi c'è l'applicazione delle foto che è sempre di stock quindi è sempre un'applicazione preinstallata con la quale potremo avere accesso alla nostra libreria di foto quindi alla nostra libreria iCloud per poter monitorare e guardare tutte le foto. Stessa cosa anche con musica quindi con l'accesso ai brani di Apple Music alle playlist create e alle radio e la stessa cosa anche con i podcast quindi queste applicazioni sono preinstallate così come la ricerca, le impostazioni e l'applicazione per vedere i contenuti presenti sul computer. Poi abbiamo Netflix che è una delle applicazioni che utilizzo maggiormente sull'Apple TV sicuramente è l'applicazione che utilizzo di più sulla mia Apple TV è indispensabile e la utilizzo appunto per guardare i contenuti di mio interesse presenti sul portale, sul catalogo di Netflix quindi film, serie tv e documentari in base alle esigenze avremo tante possibilità per cercare il contenuto più adatto al momento e comunque ai nostri gusti. Andiamo avanti poi ho installato sulla mia Apple TV l'applicazione di YouTube andiamo avanti ancora l'applicazione YouTube insomma non c'è bisogno di spiegarla c'è l'applicazione della serie A Team per seguire le dirette delle varie partite e anche per vedere le news e le video news un'applicazione fatta abbastanza bene che ci permette di avere a disposizione le informazioni più importanti poi c'è AccuWeather che è un'app che sfrutta la nostra localizzazione per mostrarci le condizioni meteo gli argomenti di tendenza e tutte le informazioni relative alle allerte meteo alle emergenze e comunque a tutte le informazioni disponibili sulla mappa che potremo personalizzare in base alle nostre esigenze nella vista e quindi avere a disposizione sempre 24 ore su 24 uno sguardo sul meteo sulle precipitazioni sulla temperatura eccetera quindi davvero un'app molto molto comoda e interessante che non può mancare su una Apple TV che io utilizzo comunque abbastanza spesso la lascio anche così direttamente come salvaschermo per poter avere subito le informazioni disponibili andiamo avanti la prossima applicazione è l'app ufficiale della NASA da qui avremo a disposizione tanti contenuti interessanti come immagini, video oppure informazioni sulle missioni eccetera ma la cosa più importante è che c'è un canale che ci permette di guardare in diretta la nostra terra il nostro pianeta dalla stazione spaziale internazionale quindi è comunque un modo interessante di intrattenersi e passare qualche minuto di pausa poi c'è un gioco che è un gioco molto semplice che ci permette di giocare praticamente a tennis sfruttando il remote di Apple TV insomma come se fosse una racchetta è un'applicazione abbastanza stilizzata però molto fluida e simpatica che ci permette quindi di giocare muovendoci anche in prima persona quindi trasformando il salotto in un ambiente di intrattenimento un po' più avanzato andiamo avanti c'è l'applicazione Sing che abbiamo già visto svariate volte sui dispositivi iOS qui non c'è la possibilità di registrare le performance però c'è la possibilità di cantare insieme ad artisti o ad altri utenti seguendo le canzoni di nostro interesse e ovviamente le parti contrassegnate nel karaoke quindi potremo andare a divertirci anche su Apple TV con questa applicazione andiamo avanti abbiamo a disposizione poi un'applicazione per la radio che si chiama MyTune Radio Free abbiamo a disposizione qui tutte le stazioni radio che possono interessarci sia in base alle ricerche top sia in base al genere sia in base alla nazione oppure a una regione particolare avremo quindi la possibilità di seguire la radio in modo semplice anche in background quindi rimanendo poi nel multitasking e potendo continuare a sfruttare il resto delle applicazioni andiamo avanti poi c'è Piccole Ricette che è un'applicazione che ci mette a disposizione tante ricette suddivise per categoria in alcuni casi ci sono anche dei video che mostrano le preparazioni molto interessante sviluppata molto bene e piacevole soprattutto per chi preferisce cercare giorno dopo giorno una ricetta sempre diversa poi abbiamo qui un altro gioco che più che un gioco è anche un modo di allenare la mente che è Fitbrains è praticamente un'applicazione che ci mette a disposizione dei minigiochi che ci fanno concentrare oppure ci fanno migliorare la gestione della memoria eccetera andiamo avanti la prossima applicazione che vi voglio mostrare è la classica Minion Rush di Gameloft ispirata appunto ai famosi personaggi del film Cattivissimo Me e ovviamente ai Minions se non avete visto il film e praticamente è un Endless Runner molto divertente che ogni tanto ha anche delle animazioni particolari e delle introduzioni video da andare a guardare per addentrarsi sempre di più nel gioco nel gioco e nell'atmosfera andiamo avanti c'è Asphalt 8 che è una classica applicazione di intrattenimento è un classico gioco che ci permette quindi di sfruttare il remote di Apple TV oppure anche un controller esterno per poter gareggiare e giocare allo stesso gioco di corse che abbiamo visto su Android e su iOS in diverse occasioni e quindi potremo avere a disposizione il gioco completo comprese le personalizzazioni la sincronizzazione con gli account tutti i progressi sui circuiti sulle tracce eccetera direttamente sulla nostra Apple TV molto comoda la possibilità poi di scegliere i vari comandi volta per volta in modo tale da avere a disposizione un'esperienza di gioco più interessante comunque più accattivante non voglio dire quasi a livello console però comunque sia già giocare ad Asphalt sullo schermo di una televisione può essere molto più soddisfacente ci sono anche altri giochi della stessa tipologia sulla App Store però questo è uno dei miei preferiti quindi è presente sulla mia Apple TV dal primo giorno in cui l'ho acquistata e configurata andiamo avanti c'è Kitchen Stories che è un'altra applicazione di cucina che in questo caso ci mette a disposizione tantissimi video sulle varie preparazioni dei vari piatti che ci possono interessare quindi avremo a disposizione davvero un catalogo molto molto pieno è un ricettario interessante volta per volta andiamo ancora avanti troviamo a disposizione un'altra applicazione molto interessante che è Zova che è un'app per il fitness e per l'allenamento che ci permette quindi di allenarci in soggiorno con piccoli circuiti di allenamento comunque sviluppati in base alle nostre esigenze ci sono anche dei pacchetti opzionali insomma si può scegliere ciò che è meglio per le varie esigenze di ogni utente io ogni tanto la utilizzo non spesso perché ultimamente sto usando un'altra applicazione solo su iPhone però quando capita è interessante utilizzare anche questa su Apple TV andiamo avanti andiamo alla prossima applicazione che poi è un gioco ovvero Crossy Roads un gioco molto famoso che abbiamo analizzato diverse volte anche su iOS un gioco che ci permette quindi di dover attraversare una strada trafficata ma non solo perché troveremo anche passaggi a livelli eccetera con dei personaggi che potremo sempre cambiare in base ai livelli che andremo a superare si parte con un simpatico pollo e poi potremo andare quindi a scegliere anche altri personaggi l'obiettivo è quello di non farsi investire di riuscire ad andare il più avanti possibile nel gioco quindi cercando di appunto raggiungere il punteggio massimo e stabilire un nuovo record andiamo avanti c'è Song Pop Party che è una versione particolare di Song Pop il gioco che ci permette di andare a riconoscere le canzoni appunto il quiz musicale in questo caso si potrà giocare in un giocatore o in multigiocatore sulla stessa Apple TV e quindi andare a riconoscere le canzoni delle varie playlist il funzionamento è quasi il medesimo solo che non avremo la sincronizzazione delle partite che abbiamo ad esempio già sull'iPhone quindi sarà un'esperienza separata andiamo avanti c'è l'app del Sudoku anche questa applicazione ogni tanto è molto comoda soprattutto nei momenti di pause e di relax poi c'è l'applicazione Apple Events che ci permette di vedere tutto quello che riguarda gli eventi mediatici Apple quindi le varie presentazioni dei vari dispositivi software la WWDC qualsiasi cosa insomma possa servirci qualsiasi presentazione poi ci sono altre due applicazioni che voglio saltare perché non le utilizzo spesso le stavo solo provando quindi non è giusto inserirle in questo video passiamo direttamente all'applicazione Ikea che non è altro che il catalogo Ikea messo in modalità digitale su Apple TV quindi potremo andare a scegliere le varie sezioni e scoprire tutti i prodotti tutte le combinazioni i contenuti aggiuntivi i video insomma quello che anche non è presente sul catalogo cartaceo direttamente su Apple TV poi c'è Dailymotion che è il portale video molto è un portale video molto famoso e molto utilizzato da tanti utenti dove potremo trovare tanti contenuti interessanti da guardare ancora c'è Jetpack Joyride che è un altro gioco molto interessante un gioco e ha scorrimento orizzontale che ci permetterà appunto di entrare in questa nuova dimensione in una fabbrica con un simpatico personaggio che avrà a disposizione un Jetpack e quindi raggiungere gli obiettivi sconfiggere i nemici andare avanti superare le missioni raccogliere le monete insomma le classiche operazioni da fare in questo tipo di gioco molto comoda la possibilità di gestire il tutto con il touch del Siri remote o comunque dell'Apple TV remote dato che da noi in Italia non si parla di Siri remote perché Siri non è disponibile sulla Apple TV di quarta generazione andiamo avanti passiamo alla prossima applicazione disponibile sulla mia Apple TV si tratta in questo caso di Rai.tv ovvero di un'app focalizzata appunto sui canali Rai che ci permette di avere a disposizione tanti contenuti on demand dei replay di tanti programmi film e insomma show messi in onda sulle reti Rai potremo quindi scegliere quello che vorremmo vedere e avere subito a disposizione il contenuto su Apple TV poi c'è l'app di Twitter che non è molto performante in quanto non ci permette di eseguire operazioni in modo libero come le classiche app o come la versione desktop però ci permette di andare a vedere quali sono tanti top trend quali sono i tweet più importanti e più diffusi in un determinato momento della giornata quindi andare a scegliere e a capire cosa analizzare cosa vedere poi magari l'esperienza utente completa si completa appunto con l'applicazione poi c'è Vevo un'app che ci mette a disposizione una serie di video musicali scelti in base ai nostri generi artisti preferiti potremo fare una qualsiasi ricerca per avere a disposizione i contenuti video ufficiali ma ci saranno anche dei contenuti extra che solitamente non sono visibili in altre piattaforme poi c'è Vimeo un'altra piattaforma di streaming video molto interessante che mette a disposizione anche una sezione sviluppata apposta dalla redazione che ci mette a disposizione quindi tutti i video più interessanti giorno per giorno quindi una nuova piattaforma dalla quale attingere diversi contenuti poi ci sono le ultime due app ovvero Tangent che è un'app che si integra con il nostro account Instagram e che ci permette di andare ad analizzare le nostre immagini scoprire i like e i vari commenti alle nostre foto è la stessa cosa fatta con album di Facebook che ci permette quindi di avere a disposizione le informazioni sui contenuti che abbiamo pubblicato sul social network tutto questo ovviamente in attesa del porting ufficiale delle app dei social su Apple TV va bene ragazzi quindi con questo video noi abbiamo terminato io vi ringrazio per avermi seguito ci rivediamo con i prossimi video a presto 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 Grazie.